Come agisce il karma nella vita odierna? Domanda di Arianna. Cosa possiamo capirne? Perché? Cosa? Eccetera, eccetera, eccetera. Il karma agisce nella vita moderna, nella vita passata, nella vita futura, sempre nello stesso identico modo. Fai una puzzetta qua e l'odore si espande in tutto l'universo. Questa è la legge del karma. Ogni azione ha una reazione. Prendi il tè alla menta, lo bevi e ti disseti. Azione e reazione. Tiri un calcione nel sedere a qualcuno, sei sul calcio nel sedere e quello vola. Famose giostre. Questa è la legge del karma. Grande? Ready? No. C'è una mappa. Very good.